Pallone in area di rigore, attenzione al pallonetto sul quale dice di no il portiere Aresti. Va Almici, pallone forte in mezzo, colpo di testa a rete, il gol dell'Ascoli, lo stacco in mezzo all'area di rigore, vincente da parte di Gigliotti e 1-0 Ascoli. Palletti, pallone imbucato bene verso il limite dell'area, attenzione alla botta centrale di Palombi, neutralizzati in due tempi da Ragni. Palombi cerca l'uno contro uno, lo trova, attenzione in mezzo c'è Pettinari in attesa del cross, Eccolo Pettinari, colpo di testa e pallone sopra la traversa, non di molto, buona occasione per la Ternana con Pettinari servito da Palombi. Occhio al cross in mezzo, Pettinari, Murato, Avenatti con sinistra a rete, il pareggio della Ternana sotto la curva, Avenatti. Retro passaggio per Ragni, Ragni al limite dell'area, attenzione a Falletti che gli toglie il pallone, Falletti, rete! Il gol di Falletti! Non c'è fallo sul portiere, 2-1 Ternana. Riva Addae, controlla Addae, prova il destro, Addae! Salvataggio grazie anche alla traversa in calcio d'angolo di Aresti. Non c'è più tempo, è finita ad Ascoli, la Ternana batte l'Ascoli 2-1 e si salva.